Calcio. Napoli-Salernitana si giocherà domenica. L'orario della partita verrà deciso dalla Lega di Serie A. Lo ha detto il prefetto di Napoli al termine di un vertice in prefettura. Ci aggiorna in diretta Ivan Palumbo. Buonasera da Piazza del Prebiscito. Siamo davanti alla prefettura di Napoli. Qui circa due ore fa il prefetto Claudio Palumbo ha annunciato il rinvio di Napoli-Salernitana per necessità pubbliche vista la concomitanza di tanti eventi nel weekend a fuori grotta. Si giocherà dunque non più sabato ma domenica. Sarà poi la Lega di Serie A ad ufficializzare l'orario. Ma tutto lascia intendere che la gara sarà disputata alle 15, dunque dopo Interlazio. Giocoforza sarà poi rinviata anche Udinese-Napoli della giornata successiva che dovrebbe slittare da martedì a giovedì. A Napoli è stato predisposto anche un piano sicurezza per l'eventuale festa a Scudetto. Il centro storico sarà chiuso ad auto e moto. Da Napoli è tutto. La linea può tornare allo studio.